Conosci l'allevatore Giovanni? Come molti altri, sogna di allevare sui netti sani, ben nutriti e naturalmente con la massima resa economica. Tuttavia, Giovanni lotta contro una malattia molto comune nei sui netti, la diarrea post-svezzamento, PVD, motivo di molte frustrazioni e preoccupazioni. Il batterio Escherichia coli-enterotossigeno F4, già conosciuto come K88, è una delle principali cause di PVD. Guardiamo dove questo batterio F4 si localizza. Sulle cellule del piccolo intestino. Qui aderisce attraverso sottili appendici a forma di peli, chiamate fimbrie. Nonostante l'impegno, il sistema immunitario del sui netto non riesce a sconfiggere il nemico, perché i batteri invasori si replicano molto velocemente. In realtà, sono le enterotossine secrete da questi batteri le responsabili del danno reale. Esse inducono il rilascio di una grande quantità di liquidi, che causano diarrea, ritardo nella crescita e in alcuni casi anche la morte. Ma Giovanni sa come affrontare la PVD. Dopo lo svezzamento, tratta regolarmente i suoi sui netti con gli antibiotici. In realtà, la resistenza agli antibiotici potrebbe guastare i suoi piani. D'altronde, come molti allevatori sanno, i suoi netti ammalati che soffrono di diarrea post-svezzamento crescono più lentamente rispetto ai loro compagni di inidiata e non recuperano mai. Necessitano, infatti, di almeno 10 giorni in più per raggiungere il peso di macellazione. Ciò comporta la necessità di più mangime, più farmaci e più lavoro. Senza dimenticare la mortalità, che riduce drammaticamente i profitti. Nel lungo periodo si possono perdere fino a 4,50 euro per sui netto. Denaro che si potrebbe investire diversamente. Come potrebbe Giovanni gestire il problema in modo più efficace? Decide di chiedere consiglio al suo veterinario di fiducia, il dottor Pietro, il quale suggerisce Facciamo un po' di esami diagnostici. Come ci si poteva aspettare, nel gruppo sono presenti batteri Etec F4. Per evitare future perdite, il dottor Pietro, in alternativa agli antibiotici, suggerisce l'utilizzo di un nuovo vaccino. Coliprotec F4 contiene batteri vivi dello stesso tipo di quelli identificati nel gruppo, ma non virulenti. Somministrato per via orale, con una pistola dosatrice o nell'acqua di abbeverata, il vaccino con i batteri vivi raggiunge l'intestino. È importante sapere che questi batteri non producono le enterotossine, pertanto non causano il danno indotto dai fotogeni virulenti. I batteri vivi attraversano la parete intestinale dove interagiscono con diversi tipi di cellule immunitarie che alla fine stimolano la produzione di IGA specifiche, anticorpi in grado di contrastare le future infezioni. Nel caso si verifichi un'infezione da Etec F4, questi anticorpi inizieranno ad eliminare i batteri invasori, riducendo significativamente la durata e la gravità della diarrea. Già sette giorni dopo la vaccinazione, i suoi netti sono completamente protetti e la protezione dura per 21 giorni. Sembra un approccio interessante, non è vero? Giovanni decide di provare il vaccino. Vediamo cosa succede. I suoi suoi netti sono floridi, ne ha persi molti meno e i suoi profitti crescono. Le perdite economiche causate dalla diarrea post-svezzamento appartengono ormai al passato. Coliprotec F4 è un elemento chiave dell'approccio Full Value Pigs di Elanco, suini di pieno valore per un'ottimizzazione aziendale e contribuisce significativamente alla salute dei suoi netti di Giovanni. Coliprotec F4, superiamo insieme la diarrea post-svezzamento. Coliprotec F4, superiamo insieme la diarrea post-svezzamento.